Sto seguendo finalmente, visto che ho trovato da tutte le parti questa vicenda di Marco Caltagironi, allora mi sto informando, vedendo un po' qualche video perché io non guardo la televisione, ma è solo internet, però qualche podcast di programmi televisivi me li guardo volentieri. Quando mi interessa qualcosa, sono totalmente allibito da questa faccenda. Mi chiedo come uno non possa sgamare in un attimo questi profili fake. A me è capitata una cosa qualche giorno fa. Praticamente di solito a noi maschietti ci contattano delle procaci ragazze attraverso dei robot, diciamo, con delle risposte automatiche. Allora mi è capitato invece stavolta che una ragazza cinese mi contattasse e ho visto che non fosse un robot. Ovviamente con tutta la diffidenza del mondo ho iniziato a parlarci per curiosità e mi ha dato quindi un contatto personale di WeChat, WeChat che è una specie di WhatsApp eccetera. E ci ho parlato un po'. Poi ho scoperto semplicemente che questo profilo apparteneva a un'altra persona, ma dopo un giorno si può dire. Facendo, ecco, imparate questa cosa, facendo la ricerca su Google per immagini, queste immagini vi condurranno al profilo reale di quella persona. Queste persone sono degli scammer. Gli scammer non sono altro che, diciamo, dei profili appunto fake che hanno uno scopo, quindi stringono amicizie con voi e poi che succede? Vi chiederanno dei soldi o comunque vi trufferanno in qualche modo. Volevo prendermi gioco di questo profilo, però poi non ho tempo da perdere, quindi l'ho sputtanato slash A, l'ho sputtanata, l'ho sputtanato, perché apparentemente può essere una ragazza, può essere anche un panciuto ottantenne che fa questo tipo di gioco. Ritornando a noi, Pamela Prati. Ecco, per, diciamo, smascherare questi scammer ci vuole un attimo. Mi chiedo come una faccenda riguardante un personaggio pubblico possa finire così a schifio, insomma. E quindi stavo vedendo un video in cui la persona a cui hanno rubato queste immagini veniva intervistata. Quindi mi chiedo ecco come si possa fare per così tanto tempo a credere a un fake, quando si possa verificare in un attimo, ripeto, facendo la ricerca su Google per immagini o semplicemente una videochiamata, insomma. Ormai persino Instagram consente di fare le videochiamate, Whatsapp, Facebook, tutto. Quindi, non so, rimango allibito e finalmente so chi è questo fantomatico Mark, Marco Caltagione. Ciao. Alla prossima puntata di... No, di niente. Sono semplicemente dei video su IGTV, questo nuovo mezzo che consente di sproloquiare direttamente qui su Insta. Ciao. Alla prossima puntata di...